Sì, diciamo che questa è un'occasione particolare dove dobbiamo ribadire l'unità della nazione, quindi a maggior ragione bisogna essere presenti per manifestare il nostro orgoglio e il nostro impegno a che siano superati questi problemi. Non possiamo nascondere che si tratta di una rinascita, è come se fosse una seconda repubblica che sta sorgendo adesso dopo questi disastri del coronavirus, quindi a livello economico, a livello sociale e anche a livello culturale affrontiamo un nuovo periodo dove tutti dobbiamo essere insieme per rinascere e risollevare le sorti della nazione, riferendosi al nostro territorio e alla nostra calabria.